anderson lacciarino uno due un due un soldato veniva avanti marciando per la strada principale con lo zaino sulle spalle lasciavola al fianco perché era stato alla guerra e adesso tornava a casa sulla strada si imbatté in una vecchia strega era davvero orribile con l'abbro che le scendeva fino al petto buonasera bel soldatino disse che bella sciabola che hai che grande zaino sei davvero un bel soldatino ora si che potrai avere tutti i soldi che vuoi grazie tante vecchia strega rispose il soldato vedi lì quel grosso albero la vecchia gliene indicò uno che si ergeva di fianco a loro dentro è tutto cavo se ti arrampichi fin sulla cima troverai un buco nel quale puoi farti scivolare fino in fondo e ti legherò una corda intorno alla vita per poterti tirare su quando mi richiamerai ma cosa devo fare dentro quell'albero? chiese il soldato prendere il denaro rispose lei quando arriverai in fondo all'albero capo sappi che ti troverai in un gran corridoio illuminato da più di cento lampade vedrai tre porte e le potrai aprire perché le chiavi sono nella toppa se entri nella prima stanza vedrai in mezzo al pavimento una grande cassa sopra c'è seduto un cane i suoi occhi sono grandi come tazze da tè ma non farci caso gli darò il mio grembiule a quadretti bianchi e celesti da stendere sopra il pavimento tu va verso il cane acchiappalo mettilo sul grembiule steso apri la cassa e prendi tutti i soldi che vuoi sono tutti di rame ma se li vuoi d'argento non hai che da andare nella seconda stanza dice un cane dagli occhi grandi come macine da mulino ma non farci caso mettilo sul mio grembiule steso e prendi tutto quello che vuoi se invece preferisci dell'oro nella terza stanza puoi prendere tutto quello che riesci a portare il cane che sta accobacciato sulla cassa delle monete d'oro ha due occhi grandi come la torre di copenacchil quello sì che è un cane credi a me ma non farci troppo caso mettilo sul mio grembiule e non ti farà niente e prendi pure dalla cassa tutto l'oro che vuoi mica male disse il soldato ma io che dovrei darti vecchia strega perché pure è qualcosa per te non è vero? non voglio niente rispose la strega neanche un soldo la sola cosa che ti devi prendere per me è un vecchio azzerino che mia nonna ha lasciato là sotto l'ultima volta che è scesa va bene disse il soldato allora legami con la corda eccola qui disse la vecchia ed ecco il mio grembiule a quadretti bianchi e turchini il soldato allora si arrampicò sull'albero e si lasciò cadere nel tronco cavo proprio come la strega aveva detto lì sotto c'era un gran corridoio illuminato da centinaia e centinaia di lampade quando aprì la prima porta mamma mia c'era proprio un cane con gli occhi grandi come tazze da tè che lo fissava severo sei proprio un bel tipo gli disse il soldato lo mise nel grembiule della strega e afferrò tutti i soldi di rame che poteva mettere in tasca poi chiuse la cassa si rimise sul cane ed entrò nella seconda stanza accidenti là c'era un cane con gli occhi grandi come macine da mulino non guardarmi tanto che ti si rovina la vista gli disse il soldato mise il cane sul grembiule della strega e quando vide tutti quei soldi d'argento buttò via tutti quelli di rame che aveva e si riempì le tasche e lo zaino solo d'argento poi arrivò alla terza stanza che orrore il terzo cane aveva davvero due occhi grandi come la grande torre di copenaghen e li faceva girare come due ruote buonasera disse il soldato e si levò il berretto dato che in tutta la sua vita non aveva mai visto un cane del genere ma dopo un po' pensò che poteva bastare lo mise sul pavimento aprì la cassa e mio dio quanto oro poteva comprarci tutta copenaghen tutti i maialini di zucchero delle venditrici di dolciumi ambulanti tutti i soldatini di piombo tutti i cavalli ad ondolo del mondo e si che ce n'erano di quattrini gettò tutto l'argento che aveva nelle tasche e nello zaino e al suo posto prese l'oro se ne riempì le tasche lo zaino, il berretto e gli stivali tanto che riusciva appena a camminare ora si che era ricco rimesso il cane sul cassone rinchiuso la porta e gridò attraverso il tronco cavo tirami su vecchia strega e la cassa e la cassa ce l'hai? chiese quella già è vero me l'ero totalmente dimenticato e andò a prenderlo allora la strega lo tirò su e lui si trovò di nuovo sulla strada principale con le tasche, stivali, zaino e berretto pieni di denaro cosa te ne fai del lacciarino? chiese il soldato sono fatti i miei rispose la strega tu hai avuto l'oro io voglio soltanto l'azzarino poche storie disse il soldato dimmi subito cosa ci puoi fare o con la mia sciabola ti taglio la testa e no gridò la strega allora il soldato le tagliò la testa e allora il soldato le tagliò la testa zac poi raccolse tutti i soldi nel suo grembiule e se lo mise sulle spalle come fagotto si mise in tasca l'azzarino e se ne andò direttamente in città era una città molto bella ed egli si recò nella locanda più lussuosa chiese la camera migliore e ordinò i suoi piatti preferiti perché era ricco e poteva permettersi tutto quello che voleva il servitore mentre li puliva trovò che i suoi stivali sembravano vecchi e veramente ridicoli per un signore così ricco ma era solamente perché ancora non ne aveva comprati di nuovi il giorno dopo acquistò degli stivali adeguati e altri bei vestiti ora era diventato un distinto signore e si fece raccontare tutte le meraviglie della città tra cui il re e la sua figlia che era una principessa molto graziosa dove si può vederla? non si può vederla, dicevano tutti vive in un grande castello di rame con tanti muri e tante torri tutto intorno nessuno può andare a trovarla eccetto il re perché una profezia dice che sposerà un soldato semplice e questo al re non va vorrei proprio vederla pensava il soldato ma non gli fu possibile ora se la spassava davvero andava a teatro attraversava il parco reale in carrozza e faceva la carità ai poveri un bel gesto da parte sua ma lui sapeva cosa vuol dire trovarsi senza il becco di un quattrino adesso che era ricco e ben vestito aveva anche tanti amici e tutti lo trovavano un cavaliere simpatico e nobile e di questo lui era molto contento ma furia di spendere ogni giorno del denaro senza intescarne mai alla fine gli rimasero soltanto due soldi e dovette lasciare la bella camera dove aveva abitato per andare a stare in una minuscola mansarda dovette lucidarsi da solo gli stivali e rattopparseli con un grosso ago nessuno dei suoi amici veniva più a trovarlo perché c'erano troppi scalini da fare una sera molto scura il soldato che non poteva più nemmeno comprarsi una candela si ricordò di un moccoletto appiccicato al lacciarino che aveva preso sotto l'albero cavo quando la strega gli aveva chiesto di scendere allora tirò fuori il moccoletto e l'acciarino lo batté per accendere il fuoco e proprio mentre le scintille sprizzavano dalla pietra focaia si spalancò la porta e gli si aprì davanti il cane con gli occhi grandi come tazze di tè che aveva già incontrato sotto l'albero in cosa posso servire il mio padrone? domandò il cane ma tu guarda esclamò il soldato gran cosa quest'acciarino quindi posso avere tutto quello che desidero e rivolto al cane gli domandò di procurargli del denaro il tempo di contare fino a tre e quello non c'era più il tempo di contare di nuovo fino a tre ed eccolo di nuovo con in bocca un sacco pieno di soldi adesso sì che il soldato aveva capito cosa c'era di tanto interessante in quel l'acciarino se lo batteva una volta arrivava il cane che stava sulla cassa del rame se lo batteva due volte arrivava il cane sulla cassa d'argento se lo batteva tre volte veniva quello dell'oro così il soldato ritornò nella sua bella camera al primo piano indossò di nuovo dei bei vestiti e tutti i suoi vecchi amici lo riconobbero subito e tutti gli volevano bene un giorno pensò peccato che non si possa vedere la principessa tutti dicono che deve essere molto bella ma che ne serve se deve per forza rimanere rinchiusa nel grande castello di rame circondato da tante torri davvero non riuscirò mai a vederla ma dov'è il mio acciarino lo batte ed ecco gli davanti il cane con gli occhi grandi come tazze da tè è tarda notte lo so disse il soldato ma brucio dal desiderio di vedere la principessa anche per un solo istante il cane si lanciò fuori dalla porta e prima che il soldato se ne accorgesse fu di ritorno con la principessa addormentata in groppa era così graziosa che chiunque poteva accorgersi subito che si trattava di una vera principessa il soldato non poteva resistere al suo desiderio e la baciò era pur sempre un soldato il cane poi tornò indietro con la principessa ma la mattina dopo mentre il re e la regina prendevano il tè la fanciulla raccontò che durante la notte aveva fatto un sogno molto strano con un cane e un soldato aveva cavalcato in groppa il cane e il soldato le aveva dato un bacio proprio un bel affare disse la regina la notte dopo una delle vecchie dame di compagnia dovette vegliare presso il letto della principessa per vedere se si trattava davvero di un sogno il soldato si tormentava dal desiderio di rivedere la splendida principessa e così la notte il cane la venne a riprendere e ripartì il più veloce possibile ma la vecchia dama si mise ai suoi stivaloni e lo inseguì altrettanto velocemente quando li vide spalire in una grande casa pensò ecco dove è andata e fece una gran croce col gesso sulla porta poi ritornò a casa e si mise a letto quando il cane uscì per riportare a casa la principessa vide che era stata tracciata una croce sulla porta del soldato allora con un pezzo di gesso tracciò delle croci su tutte le porte della città un'ottima idea adesso la dama di corte non poteva trovare la casa giusta perché c'erano croci dappertutto la mattina dopo molto presto il re la regina e la vecchia dama di corte andarono a vedere dove era stata la principessa eccola qui grida il re appena scorse la prima porta assegnata con una croce ma no caro marito è quella là disse la regina vedendo una croce su un'altra porta qui c'era un'altra e anche qui gridarono tutti man mano che vedevano le croci sulle porte finché non capirono che così era inutile continuare a cercare ma la regina era una donna molto furba che non era capace soltanto di andare in carrozza ma anche di tante altre cose con le sue grandi forbici d'oro tagliò un grosso pezzo di seta e lo ricucì assieme in modo da formare un grazioso fagotto lo riempì poi di gran turco tritato lo legò alla schiena della figlia e quando ebbe finito fece un buchetto in fondo al fagotto in modo che il gran turco cadendo si spargesse sulla strada percorsa dalla principessa quella notte il cane tornò a prendersi la fanciulla sulla groppa per portarla dal soldato che le voleva tanto bene e che avrebbe desiderato essere un principe per poterla sposare il cane non si accorse del gran turco sparso dal palazzo fin sotto la finestra del soldato e si arrampicò su per il muro insieme alla principessa la mattina dopo il re e la regina videro così dove era stata la loro figlia allora presero il soldato e lo misero in prigione come era buio e noioso nella prigione poi gli dissero domani ti impiccheremo e queste non sono cose che si sentono dire volentieri in più aveva dimenticato l'acciarino nella locanda la mattina dopo attraverso le sbarre di ferro della piccola finestra poteva vedere la gente che correva fuori dalla città per andare a vedere la sua impiccagione sentiva i tamburi suonare e vedeva i soldati marciare correvano fuori dalla città proprio tutti c'era tra gli altri anche un apprendista calzolaio in crembiule di cuoio e pantofole e correva così forte che una ciabatta gli sfuggì e andò a sbattere proprio contro il muro dove il soldato stava affacciato contro le sbarre di ferro ehi là ragazzo che bisogno c'è di tanta furia gli gridò il soldato tanto prima che arrivi io non succederà niente se piuttosto vuoi fare una corsa dove abitavo prima e portarmi il mio vecchio acciarino ti darò quattro soldi ma devi sbrigarti i quattro soldi non dispiacevano al ragazzo che corse a prendere l'acciarino lo allungò al soldato e state un po' a sentire quello che accadde ora fuori dalla porta della città avevano drizzato una grande forca intorno c'erano soldati e centinaia di migliaia di persone il re e la regina sedevano su un magnifico trono proprio di fronte al giudice e a tutto il consiglio il soldato era già in cima alla scaletta e stavano per mettergli la corda al collo quando gli disse che era tradizione esaudire l'ultimo desiderio del condannato prima dell'esecuzione a lui sarebbe piaciuto tanto tirare un'ultima boccata dalla sua pipa l'ultima prima di andare all'altro mondo questo re non poteva proprio negarglielo e allora il soldato prese il suo acciarino lo sbattè per accendere il fuoco una due tre volte ed ecco che tutti e tre i grossi cani saltarono fuori quello con gli occhi grandi come due tazze da tè quello con gli occhi grandi come macine da murino e quello con gli occhi grandi come la grande torre di copenhagen aiutatemi adesso fatte in modo che non mi impicchino chiese il soldato e allora i cani si gettarono sui giudici e su tutto il consiglio presero l'uno per le gambe l'altro per il naso e li gettarono in aria così in alto che ricadendo si ruppero in tantissimi pezzi io no gridò il re ma il cane più grosso di tutti affrò anche lui e la regina e li gettò dietro a tutti gli altri allora i soldati si spaventarono e tutta la gente si mise a urlare caro soldatino sii tu il nostro re e ti daremo in sposa la nostra bella principessa misero il soldato nella carrozza reale e tutti a tra i cani lo precedettero danzando e gridando evviva i ragazzi fischiavano con le dita nella bocca e i soldati facevano il presente a tarma la principessa uscì dal castello di rame e divenne regina cosa che le fece molto piacere le nozze durarono otto giorni e i cani sedettero a tavola con gli altri spalancando tanto d'occhi che si Grazie a tutti.